Lei mi ha già dimenticato, vedi? Non si è fatta problemi. L'ha superata in un attimo. Beh, perché non dovrei farlo anch'io? Mi darò da fare. Ho un amico che è praticamente il tuo sosio. È uguale e identico, non ci crederesti mai. Sicura che sia solo un amico? Come ti chiami? Perché non chiami. Ti formulo una frase. Ti sgoccia? Ma tu sei sempre così. Beh, così. Così come? Ma non sono proprio sicura che ti definirei solo con questa frase. Un fuoco d'artificio contro il buio della notte. Scappi a gambe levate. Evidentemente hai qualcuno che ti viene dietro. È proprio un bravo ragazzo, è vero? Stai bene? Anche se è un po' aggressivo. Speravo che mi baciassi di nuovo. Non ti stanchi mai di te stesso. Che devo piangere, con degli ansi, funerari. Non è per me che non sono adatto. Ma fa parte della vita. Credo di aver bisogno di stare con te. Sempre tu, sempre semi. Forse per te è noioso stare con qualcuno, semi. È bello ricordare, no? Ricordare è bellissimo. Ricordare è bellissimo. Grazie a tutti.